La crisi climatica aggiorna in continuazione i record per il caldo. Domani è previsto il bollino rosso per 13 città e i centri urbani per il traffico, il cemento e l'aria condizionata hanno temperature anche di 6 gradi più alte delle campagne circostanti. Si chiamano isole di calore. Nei prossimi giorni è previsto però un piccolo cambiamento. C'è un'indicazione che nella giornata di venerdì avremo un breve passaggio di una perturbazione, sarà molto veloce, che porterà delle piogge ma farà anche diminuire un po' le temperature. Con queste condizioni è facile innescare incendi e in molte regioni sono in corso interventi per estinguere i fuochi, operazione che richiede tempo e fatica da parte di vigili del fuoco e volontari della protezione civile. In questi giorni le periferie di Roma sono state interessate da roghi anche di grandi dimensioni e in alcune casi le fiamme si sono avvicinate così tanto alle abitazioni che è stato necessario evacuare i residenti. Il caldo è uno degli effetti delle nostre emissioni di gas clima alteranti come CO2 o metano e se le cose non cambiano questa potrà essere ricordata come una delle stati più fresche dei prossimi anni.